Buonasera amici di Dopocena, come potete vedere dall'esemplare che stringo a fatica tra le mie mani, questa sera parleremo di cani e di esemplari particolarmente molto belli. Abbiamo qui un ospite graditissimo, un ospite che grazie alla sua attività di allevatore ha fatto conoscere il nostro territorio, in tutto il mondo praticamente, il titolare dell'allevamento del Biagio, Giuseppe Biagiotti, che è allevatore di questi splendidi Alaska Malamout, non solo, dopo parleremo anche di tutto quello che è il tuo allevamento. Io veramente ho tra le mani un cucciolo di quanti mesi, Giuseppe? A 45 giorni. A 45 giorni, giustamente lui si ribella perché forse alla mia presenza non gli piace molto, però forse il padrone, il titolare è più avezzo. Vedete che in studio sono presenti anche due adulti, due esemplari adulti, di cui uno è anche campione mondiale ed è il titolare di una di queste coppe che abbiamo qui a fianco. Ma prima di parlare di tutto ciò, io voglio che tu mi illustri la tua passione nata nel lontano 1982, quindi 30 anni di allevamento. Giuseppe, allora. Io andai nel 1982 all'esposizione canina, avevo un boxer, la proprietaria aveva un boxer, andai a questa esposizione a Padova e di lì, andando per questa esposizione internazionale di Padova, il mio sguardo ha intravisto uno di questi lupi, diciamo, chiamiamoli lupi, di questi Alaska Malamu. Non sapevo che razza era perché non l'avevo mai vista e ho detto ma è un cane meraviglioso, la coda portata come la più mondeggiante, robusto, potente, poi un cane fiero, un cane poderoso. E allora tornai a casa, la sfortuna volle che una settimana dopo mi hanno rubato questo boxer da casa è perché io mi son detto questo sarà il mio prossimo cane. Quindi già l'avevi figurato nella tua mese. No, io avevo figurato, però io avevo una cucciola di nove mesi di boxer, ma non so quanto sarà stato, però il destino volle che, niente, qui a Marotta, qui vicino, mi hanno rubato questa boxerina, non l'ho più trovata e mi son messo in contatto direttamente con gli Stati Uniti per avere un esemplare di questa razza che così mi aveva affascinato. Perché questa razza nasce negli Stati Uniti. Nasce negli Stati Uniti, sì, esattamente in Alaska, difatti il nome Alaska Malamu sarebbe la tribù nomade di questa razza. Questo era il cane, diciamo, era l'unico mezzo di locomozione per quelle tribù nomadi che vivevano là. Adesso ci sono le motoslitte, ci sono tante cose, ma allora era l'unico mezzo di locomozione che loro si spostavano. Perché questo è un cane, una razza selezionata per il traino, per il traino di grossa stazza, perché rispetto all'Aski, che è un po' più piccolo... Rispetto al Siberian Aski è un cane più robusto, più potente, più energetico per trasportare anche dei pesi. Dei pesi. Quindi la tua passione nasce nel 82, ma tu nel 84 in realtà poi decidi di fare questo allevamento. Certo, ho detto, ne presi uno, poi due, poi tre. Mi sono, ho cominciato a studiare, ho cominciato a leggere un po', ma... E poi mi sono appassionato. Io non pensavo mai di fare un allevatore, anche se adesso ho diversi esemplari, da me vengono da tutto il mondo per vedere i miei cani, per acquistarli addirittura dalla Russia, oppure dalla Siberia, come dall'Australia, come dal dal Messico, Brasile, Corea, Corea, quindi insomma... Ah, la Cina addirittura, ecco. Mi raccontavi fuori onda prima che insomma ieri hai avuto un contatto con dei cinesi che volevano che tu gli mandassi il cane su, però tu hai detto, no, no, io li voglio conoscere. Io mi voglio conoscere, io chi viene, io li faccio... è questa, io voglio... no, perché non è che io vendo, non sono degli oggetti, i cani è una cosa importante, che io prima di vendere il cane, vorrei conoscere anche i futuri proprietari, tutte le telefonate che ricevo, le email, io faccio presente che voglio conoscere prima, perché magari qualcuno ti dice, ma quanto costano? Ma non so neanche se glielo do il cane, a parte che i cani ci sono a tutti i prezzi, però... Però ecco, questo aspetto del cane oggetto dopo lo voglio approfondire con te, perché giustamente tu hai sottolineato più volte nei tuoi interventi, quando sei stato anche in altri emittenti, l'aspetto del... la differenza che c'è tra il commerciante e l'allevatore. Allora, tu sei un allevatore, tu ami fondamentalmente questa razza. Noi facciamo questo lavoro a tempo più, io e la mia famiglia, mia figlia, mio figlio, mia moglie, abbiamo dei collaboratori amanti, non che lavorano perché aspettano il 28 o il 30 perché piace lavorare, perché allevare prima di tutto bisogna essere appassionati, perché ecco, perché se uno lo fa, perché molti lo fanno, dicono adesso va una terrazza, boom, prendono quella, poi dopo un anno cambiano razza. Quando è stato carica del 101 tutti avevano il dalma, è vero, no? Ecco, ecco, oppure ecco, vanno secondo la moda. Noi, io, cioè, io ho visto questa razza, mi sono appassionato e alleverò questa razza per tutta la mia vita. E poi ci sono, adesso, c'ho mia figlia che ci aiuta, c'ho mio nipotino, lei è nata in Mazzicani, mio nipote, cioè avevo 8 mesi già, era nel giardino che si è rotto, anche stamattina mi è venuto a aiutare a dargli da bere, mi apriva le porte, cioè ecco, voglio dire, uno nasce da piccolo e... Questa tua passione che hai per questa razza, poi, ti ha permesso di coinvolgere tutta la famiglia, voi siete una famiglia a tempo pieno. A tutti, a tempo pieno, noi, dalla mattina alla sera, giorno e notte, perché mia moglie fa delle, in sala parto, maggior parte le femmine partoriscono di notte e mia moglie si fa la nottata, addirittura, con le femmine che devono partorire, ah certo, certo. Cioè si fa la veglia, si fa... No, e difatti è un lavoro, ecco, se non piace come si fa a farlo? Certo. Perché le femmine che partoriscono bisogna assisterle, potrebbero avere bisogno, potrebbero avere dei problemi nel parto, purtroppo ecco. Quindi un'intera famiglia, come vedete, dedicata all'elevamento di questa splendida razza, che comunque, grazie alla tua selezione, perché tu poi, attraverso i campioni, perché, insomma, questo è un campione mondiale, e questo è il campione mondiale, no, è lui, ecco, ha selezionato, insomma, degli esemplari, veramente, diciamo, che hanno forgiato anche il carattere di questa razza, tu hai selezionato. Certo, abbiamo circa, abbiamo una ventina di campioni del mondo in allevamento, a casa, abbiamo, dal passato, abbiamo avuto dei cani che sono stati anche in America, e hanno primeggiato nelle esposizioni americane dove è la patria di questi cani. Certo, certo. Ho avuto dei... Tu poi, grazie... Il nonno suo. Suo nonno. E... Un animale bellissimo, non so se a favore di cane... Il suo nonno, Royal Star del Viaggio. È stato un monumento, è come fosse un monumento mondiale, il padre di questo cane qua. Conosciutissimo a livello mondiale. Abbiamo vinto diversi best in show, questo ne ha 27, è ancora, è un cane che ha 4 anni, è un cane con un carattere che è una cosa veramente eccezionale. Ma che molta gente non li conoscono questi cani, conoscono il Siberian. Magari lei va a spazio, io domani va a spazio con uno di questi in città, gli dicono Oh, che bel Siberia! Aschi, Aschi. Alaskan Malamute! Ecco, diciamolo... Alaskan Malamute! Ecco, esatto. Però tu comunque hai ricevuto anche dal primogenio, quello che ha lanciato in America la linea degli Aschi, riconoscimento anche vergato, scritto, ti ha scritto, dicendo... E ringraziandoti per il lavoro di selezione che tu hai fatto. Ah, è stato il fondatore, cioè... Il fondatore. Zoller, no? Robert Zoller. Robert Zoller. Ah, lei si è informato. Abbiamo il malvezzo qui a FanoTV di studiare. Io quando ho ricevuto una lettera scritta a mano, dagli USA, Robert Zoller, io non pensavo mai che fosse quello che ha fatto lo standard di questa razza. Io non avrei... Cioè, Barra, mi vieni i brividi a pensarci. È vero, è vero. Apro sta lettera... Chi è? E poi Robert... No, ma non è possibile... Ho cominciato a leggere... Ho detto, non è possibile che sia lui. Proprio lui. Che si complimentava con me. Con te. Uno che ha fatto... Cioè, una persona che ha 90 anni. Io l'ho invitata a venire in Italia, perché noi ci scriviamo tramite lettere. Noi, sai, una persona grande il computer. E... Dice, non posso venire per l'età che ho, mi piacerebbe molto. Adesso, infatti, lo dobbiamo riscrivere. È stata una cosa emozionante. È molto emozionante. No, questo... Che scrive... Cioè, questo è veramente stata una cosa... Questo per darvi la dimensione, il peso del lavoro che questa famiglia dedica a questa razza. Per avere addirittura, voglio dire, la lettera vergata di mano dal primo genio. Senti, però, un'altra cosa che io volevo chiederti, oltre al coinvolgimento della tua famiglia, dei tuoi vecchi... Ho avuto la fortuna che tutti l'amano. Ebbè, c'è. Voglio dire, perché se no... Però, insomma, tu hai... Il supporto anche di altre persone che lavorano con te, che ti danno una mano, perché... Quanti esemplari sono presenti nel tuo allevamento? Io degli Alaska Malamut, una cinquantina di Alaska Malamut ne abbiamo. Quindi, insomma... Una cinquantina, ecco, tra cuccio, di adulti... E quindi, insomma, sono impegnativi. Poi alleviamo anche un'altra razza, che ne riparleremo un'altra... Ecco, io colgo l'occasione, anche per fare un piccolo lancino avanti, noi riospiteremo ancora a Giuseppe, con l'altra razza che tu allevi, lo Shiba, no? Certo, certo. E' salito ai fasti delle cronache, grazie a un film con Richard Gere, dove c'è questo animale, qualcuno forse di voi se lo ricorda, che tutti i giorni aspetta puntuale il padrone, purtroppo... Perché all'inizio, sì, lì... All'inizio inizia con lo Shiba. Poi è la Kita. Il film, ecco, si parla... Lì parla di una Kita, però da cucciolo è uno Shiba. Allora, loro hanno messo quello da cucciolo perché è più carino, però, ecco, quello lo sanno gli indetti al lavoro. Concessione, concessione. Però a un attento osservatore e a un allevatore come te non sfugge. Senti, però noi viviamo in un territorio, oggi non so quanti gradi ci saranno fuori, insomma, sono giornate calde. Viene da pensare, un animale selezionato e nato per il trasporto pesante su neve, viene da pensare, se io non posso fare lo slay dog, non sfrutto oppure lo faccio soffrire. In realtà non è così, perché tu hai l'allevamento qua a... A mille metri dal mare. A mille metri dal mare. Quindi sfatiamo un po' questo mito e anche questi cattivi pensieri che alcuno... Poi, questi cani non vivono in sofferenza, insomma, sono acclimatati. Cioè, un cane che ha un sottopelo, come l'Alaska Malamut, o come anche altre razze che hanno del pelo, è una protezione. Certo. Poi, l'Alaska Malamut in particolare, a differenza di altre razze, sono cani che loro sono tranquilli. Lei invita il gioco, lei guarda, qui io liberi, cioè non sono cani in requiem. Stanno... I nostri Alaskan Malamut hanno un carattere... Ma io mi punto sempre sul fatto, i cani dipende come vengono allevati. Ecco. Secondo me... Chiariamo questo concetto. Ecco, per me è questo. Perché facendo i lavori a tempo perso è una cosa. Noi stiamo dietro. I nostri cani hanno un carattere tranquillissimo. Ma allora, quando è caldo, loro si mettono sotto una pianta, io non dico di portarli al mare. Certo. Però, se uno mi dice, e che capita che mi... Questi cani sono del nord, qui soffrono, io posso dimostrare che non è vero. Certo. Perché loro, lei viene a casa mia, mi vengono a trovare a casa, vi faccio vedere tutti i miei cani, sono tranquillissimi. Soffrono meno di tante altre razze a pelo raso, che hanno dei problemi di respirazione. Quindi, avendo, vedi questo, dopo il lupo, c'è la lasca a Malamut. Avendo la canna nasale dritta, loro respirano bene, rieggiano bene, non hanno problemi. Vedi questi cani al simante. Come fanno certi cani che, ecco, loro, quello che fanno loro adesso, qualsiasi... Cioè, possiamo prendere... Loro stanno a bocca aperta, non perché... È una cosa normale. Sì, loro si, diciamo, refrigerano attraverso la lingua. Loro respirano e si rinfrescono, avendo la canna nasale dritta, non hanno problemi. Ad esempio, il molossoide, no? Ha una canna diversa. È inutile che hanno il pelo corto. Il mantello è una protezione. Io sono stato in Israele al campionato europeo nel 2000, che vinsi due campionati europei in Israele. Certo. E allora ho detto, siccome ho dei clienti anche in Israele, Allora sono stato la ospite una settimana, gli ho detto, ma mi portate a far vedere questi beduini? Certo. Nel deserto. Io ero con i pantaloncini corti, i zoccoli, una magliettina. Proprio il minimo indispensabile. Il minimo indispensabile. Ho preso il cammello con questi ebrei e siamo andati a fare un giro nel deserto. Nel deserto. Questi qua erano tutti coperti con la lana. Certo. Allora io sudavo. Quelli non facevano a piedi. Loro erano tranquillissimi, non sudavo. Allora ecco, io a molte persone dico questo, verrà il meme, cioè sono andato lì a vedere. Loro erano tutti coperti con la lana. Allora il mantello è un cane nordico, non ha nessun problema. Certo. Cioè questo, poi, voi venite con qualsiasi cane a casa mia, io vi farò vedere, voi venite con quel. Vi faccio vedere quello che sopra di più. Certo. Potete venire con qualsiasi cane. Certo. Questo è un cane tranquillo, equilibrato. Mia figlia l'ha tenuto dieci anni in camera. Certo. Una lasca a Malami. Dopo ha fatto un cucciolo, allora l'ho portato di sotto da me. Bellissimo. Lo tenevo, dormiva nel letto, lui usciva fuori tre o quattro volte al giorno. E poi stava sempre in camera. Perfetto. Cioè gli piaceva così, alla notte dormiva con lei. Questi vogliono il contatto. Non è, dice molte persone, non è il contatto. La voglia. Ci vuole, ecco, amarlo. La passione. E dedicargli anche il giusto tempo. Perché poi, giustamente. E poi con questi cani si può fare tante cose. Certo. No, qui non abbiamo la neve, ma noi la andiamo a cercare. Esatto. Adesso parleremo di questo aspetto. A testimonianza di quello che diceva Giuseppe prima. Voi potete immaginare che, insomma, non siamo in un ambiente che loro conoscono. È la prima volta che mettono le zampe in uno studio televisivo e ci sono altre persone di là delle telecamere. È un ambiente per loro, diciamo, estraneo. Però potete vedere la tranquillità. Io ho questo cucciolo tra le mie mani dall'inizio della trasmissione e qui ormai si è quasi accoccolato. Io, dopo ce lo possiamo portare via, lo eleggiamo a mascotte dello studio. Ah, certo, certo. Quello è in colore bianco e rosso. Questo è un bellissimo, è un bellissimo. E questo qua è grigio? È grigio. Grigio, lupo bianco. Senti, accennavi anche alle cose che si possono fare con questo cane. Perché una caratteristica di questo animale, tu mi hai insegnato nella chiacchierata che abbiamo fatto, è che lui piace vivere le esperienze col suo padrone. Cioè, lui deve vivere insieme al padrone. Quindi si possono fare tante attività con lui. Noi organizziamo, io siccome essendo anche presidente degli Alaska Mala, molto in Italia. Ecco, vediamo i cariolini lì con i quali, con i bicicletti. Ecco, vedi, questi sono i carrelli intorno a casa mia, guarda. Perfetto. Guarda come vanno, guarda. Allora, si può andare sia con i carrelli. Certo. Qui mio figlio e io, guarda. Stiamo andando nelle... Allora, uno può andare legato con un cinterone in vita, con un petto rato, fare dock trekking. Ah, quindi a piedi, senza... A piedi. A piedi. Allora, il primo giorno, allora abbiamo alla base all'hotel resort, da lì poi siamo partiti, siamo partiti a piedi, abbiamo fatto un dock trekking, siamo andati fino in cima alla panoramica, abbiamo fatto circa nove chilometri, nove, dieci chilometri. Sì. Siamo, abbiamo fatto pausa pranzo su al... su per la panoramica. Sì. Poi siamo ritornati, dopo il pomeriggio, chi è andato, ha cominciato le attività con i carrelli, monopattino, biciclette, altre ruote, quattro ruote, due ruote. Perché diciamo che lui ha sempre questa tendenza a tirare, quella è la sua anatemia. Cioè, li piai, ecco, li piai, lui mettendo il pettorale... Lui capisce che cosa deve fare. Sono, ecco. Allora, per tirare me ci vuole un esemplare grosso, però ce l'hai uno grosso, perché io ho 90 kg e pace. No, no, divertente. Quindi, insomma, si possono fare tutta una serie di età. Si fa tantissime cose, cominciando a piedi, uno va a piedi, vuole andare in bicicletta, vuole andare col carrello, vuole andare... Noi facciamo adesso anche a Bologna, alla fine di ottobre, facciamo un'altra manifestazione, facciamo addirittura dei tempi con i carrelli in un agriturismo. Certo. Sono carrelli studiati apposta, sono un normale triciclo oppure... Sono fatti apposta per simulare, diciamo, quello che sarebbe la slitta. Che noi d'inverno, ecco, ecco, c'è anche il mio nipotino. Perché, giustamente, insomma, chi non vive in ambiente nevoso, in montagna, però può utilizzarlo perché quella è la sua nipotino, però voi, insomma, giustamente fate anche attività sulla neve perché la sua natura è quella. Ma certo, noi organizziamo sia l'Alpe Giumello la fine di gennaio, 27, 28, 29 gennaio, all'Alpe Giumello, provincia di Lecco, sarete tutti invitati. E poi ne facciamo un'altra manifestazione, i primi di marzo, all'Aquila, a Campo Rotondo. Campo Rotondo. E laggiù abbiamo trovato anche là delle persone disponibili per fare questa, perché ci vuole, bisogna fare le piste, non è uno va lì così. Ci vuole, ci vuole, bisogna organizzare. Allora, abbiamo trovato delle persone che hanno interesse che noi andiamo, sindici, assessori, politici. Quindi diciamo che il cane è un buon viatico. Ascolta, una cosa che ho letto anche di questo animale è che lui, alle volte, visto che ha una capacità decisionale importante, quasi paragonabile a quella del lupo, che spesso ignora il comando del padrone, non perché, no? Perché? Come io, certo. Diciamo perché. Loro, le persone pensano che questi cani non sono ubbidienti, sono testoni, loro sono più intelligenti. Se io adesso gli dico un comando, che loro non vedono la necessità di questo... Magari gli dico, vieni qui, io sono qui fermo, gli dico andiamo, allora andiamo, io mi alzo per andare, ma se io faccio finta di alzarmi, loro prendono e andiamo. Certo. Però se io glielo dico per gioco, loro capiscono... Cosa ci vado a fare? Perché? Ha capito? Quindi c'è sempre il criterio di coinvolgerlo in qualcosa che lui deve reputare utile, perché si deve sentire utile questo animale. Lui, gli piace con la famiglia, lui guarda i movimenti, lui capisce, basta una volta decenni per cosa deve fare, o deve andare fuori, basta uno sguardo, loro ti capiscono. È stress. Vieni, 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 vieni. Ci stava tranquillamente appisolando, perché giustamente dici io... Mi dai un bacino, mi dai un bacino. Ecco, vedete, che splendido, che splendido manco. Ciao, ciao, ciao. E senti... Voglio dire, ha capito? Ecco. Uno si deve meritare. Il coinvolgimento e il rispetto... Io li lascio libri, posso andare in città senza guinzaglio, perché mi danno retta. Ti danno retta. Questo rientra nel discorso che loro devono comunque conoscere tutte le persone della famiglia, però riconoscere un leader. Ecco, chiariamo il concetto del leader, perché molti, vediamo, a passeggio col cane, cioè sono loro tirati dal cane in realtà, no? Questo concetto che loro devono capire chi è il leader del gruppo è importante. Come facciamo a dare questo imprinting al cane? Ma il cane, magari, quello che ci sta di più... quello che lo vive di più, lui riconosce... Per esempio, io torno a casa alle tre di notte, che vado all'espolizione, loro mi salutano, sentono il rumore del camper, dicono, ecco, torna, torna! E quindi mi fanno tutti un saluto. Cioè, io quanto passo lì, tutti si mettono nell'attento per dirmi, dai, fammi una carezza. E quindi hanno riconosciuto... Uno si deve meritare questo titolo, se uno, per esempio, il cane lo tratta come un giocattolo. Esatto. Questo qui è un cane che lui, uno lo può tenere anche benissimo in casa. A me mi vengono a trovare dei clienti, che hanno... Io mi raccomando sempre di educarli bene, perché noi, quando vendiamo un cane, non è che lo vendiamo perché ci danno i soldi. Vogliamo che lo rispettano, che non lo viziano. Per esempio, se un cane è in casa, uno mangia le tagliatelle, dà le tagliatelle, non sarebbe il massimo, no? Ecco, esatto. Anche sull'alimentazione. Allora, il concetto che, insieme a Biagio, vogliamo sottolineare è che chiunque decida nella sua vita di far parte del nucleo familiare ad un cane, qualsiasi razza sia. Ma c'è, certo, certo. Non sono dei giocattoli. Prima di tutto, ti devono essere d'accordo e tutta la famiglia. Prima di tutto, ci deve essere un consenso familiare. Io, di fatto, ti voglio vedere. A volte c'è qualcuno che viene, la moglie non entra, oppure ha paura. Io dico, guarda. Non mi do il giocattolo. 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 Perché se uno piace, uno non piace, non va bene. Non sono dei giochi, non sono dei passatempo. È un animale che va rispettato nella sua fisicità, ma anche nel suo carattere. E il rispetto deve essere reciproco, giusto? Lui rispetta te, tu rispetti lui. Questo si ottiene facendolo vivere a contatto della famiglia. È normale, certo, certo, certo. I bambini. I bambini, ecco. Io ho gente che alla notte ho avuto dei clienti che hanno avuto un bambino, avevano due maschi. Questi sono due maschi che stanno insieme, per esempio. Ecco, quindi chiariamo anche questo aspetto, maschi e femmine. Questi sono due maschi. Sono due maschi. Questo ha 18 mesi, due anni quasi, 20 mesi, 22. E questo ne ha, oh, non dormire. Dormi. E si trova bene a fanno tv. Si trova bene a fanno tv. Si è dormita, ha fatto una cuccia. Sì, va, va, va. Poi adesso vi alzate, vieni e andate, che tichella, che tichella. Noi ce li spupazziamo per un pochino. Allora dicevamo che... Dicevi giustamente l'imprinting da fare insieme a tutta la famiglia. Certo. Importante. Sì, è importante che tutti siano d'accordo perché, se non ci sono io, c'è mia figlia, c'è mia moglie, c'è uno invece non lo ama. E poi il cane dopo, di conseguenza, normalmente dovrebbe dar retta a tutti se tutti ci perdono del tempo. Normalmente quello che ci perde più tempo, lui si apprezzonerà un po' di più. È chiaro. Però è importante farlo socializzare anche con gli altri animali fin da piccolo. Voi questo è un aspetto che ci tenete molto. Quindi lui deve... Il cane bisogna socializzarlo subito. Infatti noi prima di cederli gli insegniamo ad andare col guinzaglino, gli facciamo i giochi a casa, li portiamo anche a fanno a vedere, alla stazione del treno, i rumori, le macchine. Sì, sì. No? Questa è una cosa molto importante perché un cane che non è socializzato, questo vale anche per i bambini, è la stessa cosa. Va bene, senti, il discorso dei concorsi, poi è un discorso a parte. Uno, diciamo, se vuole comunque tenere un cane e selezionarlo per i concorsi, quella è un'altra categoria, giusto? Sì, quello. Quello uno lo fa... Uno gli piace, è uno sport, magari c'è chi va a vedere la partita, molte persone, io da qui sono andato a una mondiale a Porto Rico, quella è una passione che tu hai. Io l'esposizione l'ho fatta in Porto Rico, le dico le più lontane a Cascais, Finlandia, Norvegia, Svezia, Spagna, Francia, queste sono vicine. Qui c'è una serie di coccarde. Ma questo non è niente, l'hai visto a casa, no? Siamo stati da lui a fare un precontato prima di portarlo qui, la sua cantina, poi la prossima volta se torni faremo qualche ripresa della tua cantina, perché praticamente del suo studio non c'è un mezzo centimetro di parete libera, perché è tappezzata da targhe, coccarde, insomma, quindi veramente riconoscimenti da tutto il mondo. Però la cosa che penso sia stata evidente ai telespettatori è l'amore tuo e della tua famiglia, di tua figlia che ti ha accompagnato stasera qui, per questa razza che ti ha dato tante soddisfazioni, ma penso che, questo però voglio che me lo dica tu, quanto loro hanno dato a te come persona? Eh, mi hanno dato tanto, le soddisfazioni grandissime, vincendo dei campionati del mondo, dei campionati europei, primeggiare negli Stati Uniti è stata una cosa fantastica. Io ringrazio la presenza di questi splendidi esemplari e la famiglia che è venuta unita a testimoniare l'amore per questa razza, l'appuntamento è per l'altra razza che tu terrai e ringraziamo l'allevamento del biaggio per averci portato questi splendidi esemplari di Alaskan Malamute, quindi non confondiamo le razze e grazie per averci seguito, questa puntata di Dopocena termina qui, arrivederci! Alaskan Malamute